le idee possono essere molto importanti grazie padre per essere venuto qui al vaticano anche le murano delle orecchie il tesoro dove pazienza padre pazienza nemmeno voi non potrete arrivare a quell'oro c'è qualcosa molto più importante dell'oro il segreto dell'acqua viva che può aprire la porta padre tu sei nato qui da queste parte sei un valaco e conosci la sua loro lingua perché dovrei fidarmi di te sono fedele alla famiglia alla famiglia o al santo padre grazie a tutti